3, 2, 1, arrivederci Tonella è troppo leccato così è un po' troppo leccato sembra... eh sì, adesso c'è via col video ho un'idea, siccome non ho altro da fare stasera noi andiamo a cena proprio perché non hai niente altro di meglio da fare volentieri volentieri tra l'altro qui stiamo mangiando dei pomodori e qui c'è la scuola di Gio Pomodoro questa è una cazzata sì, vabbè, ho capito però non dirle che se no chiediamo utilizzazione ingresso a castello chiediamo utilizzazione ingresso a castello Cina nel mondo c'è stato ho visto la macchina c'è stato